Massimo, che è il referente della società con cui abbiamo fatto l'accordo, fu mandata, penso da Ermanno, una foto della vecchia maglia e ha cercato di farla molto simile. Ci sarà anche una divisa giallo-oro, colore utilizzato assieme al nero negli anni 30 per le maglie del cavallino. Sono state infatti presentate nello showroom di Nike a Roma le tre nuove divise per la stagione calcistica 2019-2020. L'Arezzo indosserà l'amaranto, il bianco e appunto l'oro. È una cosa molto importante perché vuol dire che l'Arezzo è considerato, perché una maglia Nike non ce l'hanno, come ho detto, parecchie squadre lega, però poche. Nike è talmente grande che fa 2000 prodotti, quindi è normale che ci saranno tanti prodotti e quindi per la gioia, penso, dei tanti tifosi aretini che potranno comprare dal cappellino a tutto, diciamo. Il merchandising è chiaro, è una bella fonte, però è una fonte sempre abbastanza minima perché il bacino l'urrenza è sempre quello. Tu devi cercare altre forme di finanziamento, proprio per quello io sto lavorando su questo progetto di Crowfounding. Domani un incontro molto importante a Roma, cioè a Roma qua, perché siamo a Roma, e vediamo un attimino di porre le basi. Quello potrebbe essere una cosa molto interessante. Sono molto il mister perché è molto convinto, pochi avrebbero detto una frase del genere, però rappresenta proprio l'uomo di Donato, come me l'avevano rappresentato. E quindi questa cosa mi ha riempito molto oltre, mi ha dato la carica, anche veramente ho capito che questo è un lottatore, un guerriero, come ha detto lui. È chiaro, la squadra ci sono, come abbiamo, prima parlavamo dei cambiamenti in Lega dei minutaggi, quindi tu devi fare quest'anno una squadra dove tot minutaggio lo devi raggiungere per forza. E quindi 3-4 under dovranno sempre giocare. Però stiamo, come al solito, siamo sempre ottimisti perché sia Emiliano che Ermanno sono bravi e quindi speriamo, come l'anno scorso, di trovare, come ho detto, qualche jolly.